Tra palestra e campo per i Viola con Giuseppe Rossi che continua a assaggiare sempre più da vicino il pallone e il terreno di gioco. Il lavoro dei Viola si concentra al mattino in palestra con esercizi posturali, il potenziamento sotto lo sguardo del club manager Vincenzo Guerini e del team manager Roberto Ripa. Ma all'allenamento sarà presente anche Sandro Bencucci l'amministratore delegato dei Viola. Sul campo intanto i portieri all'ordine di Giulio Nucciari proseguono anche la propria preparazione. Nel pomeriggio poi all'interno del Franchi invece dopo una prima parte svolta ai campini esercizi tattici con lo sviluppo del gioco per gli attaccanti e poi una serie di partitelle a campo ridotto con la presenza anche di alcuni giocatori della primavera. E a proposito di primavera vi ricordiamo che sabato la Fiorentina giocherà contro il Torino nella sfida decisiva per l'accesso ai playoff del campionato primavera e che Viola Channel trasmetterà in diretta a partire dalle 15 l'evento e poi naturalmente in serata la sfida della prima squadra contro l'Atalanta direttamente da Pergamo. Una maratona del sabato che potrete seguire sempre e soltanto su www.violachannel.tv Grazie a tutti Grazie a tutti